no no l'è lì l'è lì allora cazzo ma io ho fatto dei litri non lo dici allora guarda che c'è il cavo ma che c'è il cavo ma io sono voluto su tirare la salita noi li siamo voluti su dall'altra parte ma quanto spingi? l'ho salita dalla parte sotto lì l'ho salita lui da la discesa tenendo la terza metti la prima ho messo la terza eh certo bravo grazie a tutti